Allora Martina, si avvicina il 5 gennaio, 5 gennaio per la decima emizione dello spettacolo Polvere di Stelle e per questa serata sarai ancora una volta al mio fiato. Con il mio grande viagere e grande onore perché si tratta di una serata, lo ribadiamo ogni anno, ma ogni anno secondo me è sempre meglio, stellare Franco ed è grazie a te. E allora rinnoviamo l'invito, vi aspettiamo numerosissimi al centro sociale giovedì 5 gennaio. Inizieremo, speriamo di mantenere questo orario di inizio alle ore 21 e ve lo dico ancora una volta, vi divertirete, quindi vi aspettiamo. Ciao a tutti. Grazie.